Le prospettive occupazionali, soprattutto nei paesi del Mediterraneo, sono per i giovani veramente drammatiche. C'è il rischio che populismo, nazionalismo prendano piede tra le nuove generazioni facendo tornare indietro il processo di unificazione dell'Europa. Il dramma sociale, in particolare quello dell'occupazione giovanile, è al primo posto. Noi proviamo ad intervenire in quella situazione di vuoto che si crea per i giovani una volta terminato il curriculum scolastico, il curriculum universitario e insieme all'Europa stiamo predisponendo un pacchetto a favore delle giovani generazioni. L'esperienza della Toscana si sta confrontando con quella di altre regioni. La Toscana non parte davvero da zero, è un'esperienza che propone all'Europa. I tirocini, il servizio civile, ma anche i contributi per la casa, ma anche il supporto al credito per fare impresa. Insomma, un pacchetto che serve ai giovani, ma che serve anche all'Europa per mantenersi integra e per mantenersi in pace e collaborativa.